Allora spin peltoll Ho detto anche spinterogeno C'era qualcosa Allora io mi faccio la campagna perchè so campagnolo Io so campagnolo e via Incolla Incolla Vai Ma dove? Che cancro al cazzo ciò cazzo Ma come si mette la chat? Che a me non me la può fare Si ma ti va Gare ischi classic sa cambiate? Andiamo a vedere cosa Benvenuto nella lane con ciò cazzo Ehm 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 Grazie Donate Si perde dai 12 euro in su Non è canale per poveri Qua si sboccia e basta Si sboccia e basta Prendo la smart che è la più veloce di tutte Ok Prendi per il culo Guarda quanta pizza Guarda quanta pizza Che cazzo sa le gare gli SSI Prendiamo un poste per me Ma quale pezzo di me Volevo vedere pure qual'era la nuova cosa della settimana Il nuovo metro Forse si è cambiato tutto Poi si va giù andrei sott'acqua Ah logico No mi scipa Non c'è lp No rp Non c'è lp Oddio No niente mi si è Impallato una roba Un po' di macini No best name In Twitch Eh 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 Esattamente Questo è un turn Oh Eh ma gli si è impallato per almeno Tu sei sicuro che ti chiami Immeldorf? Un pazzo? Si Dica ma Immeldorf? Un pazzo? Non esiste Stai streamando in questo momento? In questo momento si Un pazzo Un pazzo Un pazzo Un pazzo Un pazzo Non mi spuntano a me Ma portami una lapegno Sì Ehm, mi hanno lanciato direttamente su Discord, solo a me Ma chi è il lost? Quattro, sì Sì Eccolo, Himmeldorf, da fino a fa, 76 Quello è Himmeldorf Ah, gioi pure a Civilization Eccolo Madonna, stai tipo, che vuoi il gioco? Porca droga Ma il gioco per terra Ah, io l'ho cominciata, ma mi sono dovuto fare il tutorial tipo tre volte per capirlo un po' Sì, sì Allora Lasciate la pagina Lasciate la pagina Seguite la pagina Allora Allora, un po' il signor Dio, mi sembra La pagina La pagina Ok, c'è l'Abel Dock C'è l'Abel Dock, c'è l'Abel Dock C'è l'Abel Dock Saluto a Bannato Ma a me non mi cammina la macchina, ma che vuol Dio, perché me bucano tutti C'è il benzino Ovvio, mate Puoi usare, però Grazie per il follow Grazie per il follow No Oh my god Oh my god Emo si perde, mate No, ma molto ci sta per sacchiato bufo No, no, no No, no, ma molto ci sta per farlo No, 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 no Oh, ma qualcosa non muore, c'è Come... Cosa è diventato Oliver? Eh raga, non muore, non so perché Ma è urf Sì, questo è vero, la vuoi vedere qua A me sembra una mea Che sa, danni a B o danni a D, che roba è? Che danni fa, di nulla Allora, va bene No Che balle, però C'è uno qua C'è uno qua Possa mia drago Di merda Dai che roba No, 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 no Con l'ignite andate tu Può uscire solo con l'ignite questa cosa Che succede? Ho detto basta Almeno se scempio Oh no Dio Oddio Oddio Possa via Possa via Raga No Pizzero C'è Mel Quella Pizzero C'è 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 Non è C'è Non è C'è 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 no 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 capo il mondo! bello mondo porcotto cioè ma che schifo porca materia paletta cioè bello oh basta ma che ma che vabbè fin vabbè ma vabbè 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 Scriviti, andiamo a fare Baron Baron? No No, 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 no Ma allora mi sembrava il Baron Non lo sa, dove è? Scriviti al nostro canale Il Baron Quello è il Baron A livello di Baron lo mandiamo Quindi Baron è stato preso Baron è preso Eh ma se ne finchè non abbiamo mai Mi sembra il Baron Ah così Capito ma è 0.0 secondi No, 1.0 No, 2.0 No, 2.0 No, 2.0 No, 2.0 Secondo me l'ha fatto il Madafa Secondo me l'ha fatto il Madafa Secondo me l'ha fatto il Madafa Ma perché mi devi buttare fuori Bascano e bastonato Cioè io Cioè 30.000 Vabbè dai ma vaffanculo Poi un altro handicappato Fizz Mannaggia gli dei Vabbè vabbè Gli ha fatto un po' il chain Secondo me lì Ma Planky? Oh è bello Aspetta che vado a seguire Planky Vediamo il canale di Planky Non lo faccio non lo faccio Planky? Planky? Dimmi dimmi Non lo faccio non lo faccio? No no regà tranquilli Giocate giocate Eh fate un perfettino Ma la oggettiate il cazzo No no Cioè ci tradisci così ma scusa No no tranquilli regà Sto bene senza lol regà Sto tranquillo oggi C'ho un buon umore Oggi c'ho un buon umore regà Lol Queste sono le cose Oh poi fai ti fanno matcha con chain Te lo dico zi Ma chi è chain? È chain zi Nuovo pg Dai chain zi Lo sanno tutti Oddio Ma fai non conoscere chain zi Che fai in chain zi Allora Me ne sono rossa un po' Cazzo Non so cosa giocare Boh Banniamo immediatamente Ma perché? Pure Andre Non va Oh lo schermo Ah pure tu? Vabbè però ambizio regà Questo qua dello schermo eh Che schermo? Eh lo schermo è a 144 Hz Lo schermo o lo scherno? Dipende Lo scherno E' anche uno scherno Lo scherno Lo scherno Lo scherno Confronti di quanto è meglio il suo mondo Applicata la Pegasi Quindi c'è stata una brutta persona La scherza Pego Pegasi Modello Pega Modello Pega Non so cosa giocare Sindra Soprende tutti Smimmi Picca Soraka Soprende tutti Spimpeltoff Ancora lui Spimpeltoff Ma C'è stato scritto scia Sì ma a me mi sembra che non c'è la scia Però La sciol Forse c'è lo sciold Ma non la scia Ma c'è lo shield Eh ho visto che hanno lo shield Ma Ma scia Ma è un perro Maldito Per i più piccoli Mi chiamate anche Zioimi Oggio Oggio A seconda dei casi Oggio Oh no Morgana Alemarica 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 È un cambron De mierda Un cambron De mierda Bron De mierda Bianculo Coglione Siente Siente Ma stai online Sì 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 È È tutto online Tutto online Sì Uno dei tip della Riot Arakan piace il cioccolato Grazie Eh questo è importante È importantissimo Se lo sai Ti cambia il gameplay Eh Tu prima di giocare la canna Ti mangi due tre Kit Kat E sta a posto E sta a posto Eh cioè Ti va proprio meglio il champ Zio Cioè non è che Kit Kat bravo È di perché c'è la connessione Capito Passa attraverso il mouse Due tre peg E via Modello pega Madonna Modello fa Cominato il ZPA Io mi devo fare Modello pega Modello Era gratis un mese È stato gratis Smi O tu lo devi fare Sì Gratis tre anni Zio Adesso si paga? Adesso si paga È andato a vedere Però credo Ma certo Perché è gratis Per sempre Ma te pimpi Del tron Pimpel Vieni Qui Tranno Che cosa Che ha detto Quest'altro Non si preoccupi Non si preoccupi Dottorimmi Non stia là A vedere A giudicare È puntiglioso Sempre puntiglioso È puntiglioso Razzista Pure Razzista Sì Sì È arrivato a tredicesimo Beh per questa prima gara Non è male A merda proprio Abbiamo meccato in 50 No Sono più accordi Ci sei arrivato a tredicesimo No 50 Sì Ci sei arrivato su 50 Tredicesimo Non conoscevo Nella pista È 49 Mi sono girato due volte Sì Tredicesimo Ma 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 Come arriva a 26esimo su 100 È proprio brutto Eh infatti Ma Non è così male voglio dire Insomma Insomma È proprio una merda Va bene È una merda Ok Va bene Almeno un vinto Mi odiate Ho vinto una vischella Ho vinto Eh ma perché Ma vinci No Toxic girl si chiama Forse amica di Ota Ti devo già mandare A quel paese No 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 Ti prego Ti prego Non mi trattare Ma l'ho tanto Non mi lo merito Ma Ho detto da te Poi vabbè Dai Ota Ti prego Poi c'era Mi offendo No no Devi trattare male Ma Ottavia Ma Vediamo Che ti rollo Da giù Mi ti rollo Sei man name Sei man name Sei man name Sei man name Mi fa l'inglese Quando ti incazio Ti prego No Mi sento male Ti suffro Adesso che mi incazzo Perché mi incazzo pure con le urfe Dai vai Non ricordati l'inglese Sì Quello l'importante E minuti E' parte il monta Pacaio 2 Esatto La monta di spogo C'erano quelli che spaccava le cose E' giocato Oggi ho la tira con i 7800 Vien maria al giorno Ottavia fa le vien maria al giorno Zio Oh porcaccio Sì Sì Io non so Da cena Sì Sto morendo di fame Sì 2-3 polli a rosso Stiamo Maga Sai che mi andrebbe Ro? Eh Tu lo sai Se ci pensi un attimo lo sai La bezza Bravo Una? Una che ci fai No 3 io ci ne mangio 3 2 di riscaldamento Una di gestione Tu sei top Eh sono in tre Ma secondo te Se io faccio un concorso No? E vado a sfidare quello che mangia più pizze In associo Non me lo sbrago Sì Io sono sicuro Quello sbrago Regà Non ci fai io credo Cioè se non è un problema di tempo Io lo sbrago Sì Allora qui sta andando Non lo faccio vomitarsi Buone? Boge Dimmi dove boge Vengo bot Ah vengo Perché uno è vengo bot E l'altro il boge Dai vengo bot Faccio finta di regolare Fai finta di guardare Questi sono le tattiche Di rego Invece Sono uovo Invece ci vuol nio Il Q2 al primo Mi ha dato un minuto largo No un minuto Allora Vediamo la faccia di merda Questa cosa io la vorrei aiutare Se prima c'era di qualche spettatore Adesso 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 Ahia Con la faccia Con solo La faccia di merda Neanche il tlantish Mi sa Poi c'è Non tommai Nessere A te Ma vai su un zuppo Whatsapp E metti la foto Non è vero Potrei Social Ragazzi Io vado a scena Ci siamo stasera Di personale 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 Patellare Oggi No oggi Non sono di buon umore Io Per niente Mi sono svegliato Incazzato Come una iena E mi sono andato a allenare E mi fom male tutto No mo la due tra destra La cucina A base No no Comun con la palma No me la prendo con la padella Mi piace troppo Sfatti le padelle Mi dà un gusto Ma devo mettere bene sul fondo Devo mettere bene sul fuoco Ci ritieni le sveglie Bellissimo Poi metti un po' di no caldo E metti la mano Venga so di essere faccio E ne vado Piero Punto E' a capo Ciao ragazzi Ma cazzo Dove andare qui Uè Non c'è una spada Tutto le brasso Non fa bene le prime delle cose Ma tua madre Sai cosa fa tua madre Sai cosa cazzo fa tua madre Ti fa un fake Oh no Ti fa un fake Ti fa un fake Ti fa un u�o Ti fa un... Ti fa un wah Ti fa un u�o Non c'è Ti fa type Ti fa Ti fa Ti fa A tua madre non è una brava persona non è proprio una brava persona ok tra Che è succedere? Splinfine Ah, se ti getto è rungo Sì, sì, sì. Ho finito di far la scema di merda Ok C'è ma chi è che ha fidato il zeri al porco al... Oh 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 Ok Oh 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 Io Aiutatemi amici Grazie So chi tu sia Io Ma grazie Io non c'ho i nomi Quindi Tinda E splitti Eh Jinx Sì Oh Una cramella Oh Cramella Oh Oh Stai per farmi una cosa Oh Ma porco Ah Già 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 Mi ricordare di fare Questa Raffi Oh Ok ok Oh I am untouchable Kiri inda te rinda com'è felice che prendi tutte le torri buon soccasap insomma un verito or Stai mille, guarda, dobbiamo andare su Elf Ma guarda quanti cazzo di funghi che mi sono... Facci uno resort Stiamo nella prossima situazione, oh mio dio Cosa? Fall Ci sono tutti i funghi adesso Vanno a prendere me? No, 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 via, via Sì, Sì, Sì Sì Ah, via, 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 via.. Posto in voce? Sì, Sì, Sì Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Vabbè, però non fa che devo riuscire Ciao Chi inventa te da telefono? Ah, finfiga, non mi cazzo di sicurezza L'orso L'orso Che è questo? Mica, ho dato un flash da god, però Da god? Da god? Wow, ho fatto danni, che schifo Mi hai fatto danni? Io sono qualcuno che se la tira, però vabbè, dai È il tuo eco, per caso È il tuo, eh Aspetta, chiamato il mio cugino, così si fa a mano È il mio cugino Che stazzino che è io Come? Perché stai a far cane, vedi? Il Melford Il Melfrod Il Mestrot Il Melfrot Il Melfrot Il Melfrot D'ha il Discord Va beh, torniamo sulla chat ducale Non tengo un rigolo Guarda, guarda che c'è ancora una signora Tu me la... Tu stai di... Tu sei ma la tengo Una signora, vabbè Una signora è sua madre, scusa No dai, stavo scherzando È che non mi va di scaricare Discord Di fare tutta la registrazione e cose varie quindi semplicemente vi ringrazio di questa mia condizione buono, bella Ale che buona, start quello del cazzo che volete ah pure, proprio così eh sì, ti chiedete voi al tempo quanto deve fare prima di cena è una partita ah beh sì, certo vai, sai che calore ti non mi piace il tuo nome fly, gisci gli dica aiuto ti metto un video sono la canzone ma perché lo sento doppio? ok oddio ma che è sta modalità? che avete messo? furfa io voglio dire subito gioco kaiser perché hanno un cazzo da fare è una sbamma, sbamma tanto lo bannano dove cazzo sta sta cosa ma noi stiamo in team con questo SKT1 Fegher ma che cazzo stai con SKT1 Fegher ma che cazzo stai con SKT1 Fegher ah no, non mi ricordo quanta gente c'era nel team oddio, devo ben ma cazzo stai con SKT1 Fegher come hai visto? ti fate paura o no? dovete mutare anche i me non avevo capito che lui è stato assolutamente no, che è inutile al cazzo bella che leggero bella zi Ma perché? No, non ti aiuterai visualizzazioni o cosa, non te ne darai la soddisfazione. Ma che stronzo! Non è proprio stronzo, sono onesto e sincero. Ma no, che stavo con un... Ma che cazzo le casse, le slufi? Non c'è le cuffie, scusavole. Ma poi in EU-West, cioè... È tutto il ritardo. In realtà va bene. Ora si vede tutto quanto è il discorso. Oh Dio mio! Allora... Bisogna averla passata... Allora... Allora, vedete tranquilli in chat. Io tanto sto torcendo. Sì, c'ho da fare, mate. Ok, ok. Bella, guys. Bella! Bella ziii, bella ziii. Eee... Si, si mette per tira di nerd. Allora... Che devo andare? Ma sa parlare con me? Ahhhh! 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 Eee... Dai comunque sta attento che sta... Occhio! Allora, allora, allora! Mazza, raga! Ma perchè stai a fargli infami? Uno deve venire qua qua. Non ho capito? Ma perché non si può il 5 contro il 5 iniziale classico? Ahhhh! Ah, arrivo qua! Buono! Mi tocca Faker! Let's go with Faker! Allora, siamo in... No! Quattro cazzo siamo? Un 4... Oh, bamba! Dio... E io pure io! Vedi che devo andare top! Ma vediamo quanto è Faker questo! Allora, ve lo dico subito se è Faker! Non è Faker! No, raga! Aspetta! Sai che è Faker davvero! Faker davvero, raga! Dove essere collante! Ok! Faker weekend! itti. S'cappli... ah no mazza me lo diventino per un uffo ah cosi fa che... da una sicronza di merda prima comunque mi vorresti essere contro Volibier nuoto, ve lo assicuro tutto meno che Volibier però non le abbiamo in culo? schieto puttana uuuu cazzo le abbiamo in culo però stronzo vattene buono ma non sta scherzare, non era faker ovvio sta affostando ma sono è faker davvero ma stavo a scherzare ma che negheri davvero ah era loro e poi a livello 1 è faker e faker cosa ha fatto per essere faker? comunque raga è troppo sgravo Volibier che schifo c'è non si può giocare contro sta roba bravo Gio vattene vaffanculo che c'ha 3000 volte lo scudo si è detto cazzo vattene c'è non è m'è sta spandando solo quello c'è un metà casano con quello pazza impazzito questo c'è un soldo bene ma te ne vaffanculo stronzo pezzo del merda sta sempre a quel cazzottilino cazzottilino mamma io non tolera va a truido cazzottilino arriva a mi che cosa del merda non mi cargalo assurdo quanto le ha dato oh shit assurdo assurdo bombardali stronzate possibile buono ma c'è sempre a vicino a questo mi dispiace regà non posso fare un cazzo sette linfane no guarda and al ho ok e che cazzo non si fa gioiare mazza però me lo sto curato ma mazza me lo sto curato è bello qui tu ti sfondano attenti sono morto zio la odio sta soccola del merda ah ma c'è qualcuno devo contiermi mazza mazza non è bastato è un pazzo ai alle spalle come gli ghiacchi sono giganti ma guardate io l'ho detto set volibieri insieme sono una cosa allucinante è tipo gli amiglietti del cuore stanno facendo oh cazzo ecco perché mamma non è un problema ma magari c'era il primo pezzo del merda ma vaffanculo assolto del merda porco no come fanno così a doppio di venti a tanti punti buono fungo maledetto simile metto un po di funghi nella mezza eh lo so ma c'è un limite che l'hanno inerfato ma dimmi tutto dio ma non è pazzo questo guarda l'infame lo flash a stronzo pezzo del merda attaccalo mazza fermo il culo bello no il tuo che l'ho messo male bello me l'ho messo inizio il mio gioco no 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 dai dai lo so ma non se leggo dai che piavolo attenti il pazzo brucia ma non è possibile non ci vedi eppure prima non venivo lasciato si sarà baggato si siamo a 10.000 di roof e ce ne voglio non bisogna la massima 25 e quello è quello di nuovo quando si era pagata di 69 20 anni ok e perché cosa fanno il baron quanto se lo fanno merda eh cazzata mia ma sto pure che mi morirono era fatta stranzata boom non si scappa amico mio bello bello nooo ma non per cazzo è il drago nooo che morte ma era mio niente eh purtroppo si sentendo i tank boom non mi faccio più un cazzo veramente sono grossi sul diverso adattivo eeeh non me lo avanti non me lo avanti possiamo vincere solo un po' di oh bello wukong grande che che è ancora ma ma senti bello attacco il basso tu io non ci bag ma che so ste cazzo di forze nerdose bello bello il fumigatore vico ah siamo attenti alla sua ulti che è piuttosto rognosa oh oh mancato senti senti se gli andrò capetto osta chiamati stare un po' con il culo stretto eh pazzolo wukong boom pari per i bigli stronzo come va sono troppi i zinze wukong ecco non lo vedi no perchè li usa un cazzo che figlio di veronia dai dai la male l'ho messo uuu attenti ammazzati minim tutto su minim mamma non te l'hai blanco no no dai ma io su chi uuu uuu vabbè ammazza colco due ma dai ho messo il culo ma ma stai a divertire veramente ma perchè non ce l'ha sul fungo mannaggia la puttana guarda 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 quanto vorre c'è più di me oddio dai su il fiumgo stronzo brucia pezzo di merda beeh un mezzo plavolo un misto tra un demerito ok c'è un cacchino è creata la tazza ma non è un ammazzato non lo so ce l'ho ma stanno pazzito queste giuaglie mamma mia come stanno infatti non hanno quella non è un ammazzato non è un ammazzato ragazzi sono troppo grosso uh funghi tutto bello quindi tutto guarda se l'ucia buono eh però guarda si è che l'infame sta sempre nella vetro i pigliatti non si fanno il bel no ma guarda sul fungo stronzo boom ma è l'infame ma c'è un limite eccolo ci stiamo ragazzi andiamo 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 ma zinze 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 mazza se st sta a fa' ancora il Baron sto cazzo ma mori ecco ma un uau' è shottato quel feo chiederti buono siamo un nuovo flash, avrò quanto ci credi sono attenti cos'era quella ulti che aprile da mezzo centinaio non morire non muore, guarda, hai fatto quello che potete no sbagliato no, ho sbagliato pure lui sei un bel imbasato mamma mia porco di dio, veramente, devi morire nell'inferno più atroce addio mio arriva all'eslimberto che troppo però sono il piccolo blind sacca guarda quanto sono con la yard qualcuno difende qualcuno difende cosa abbiamo perso non mi dico così la morte degli stronzi mamma mia la sconfitta dei cani mamma mia basta, urfo, non andare fuori di te ma basta ma basta allora la prima persona che si lasse secondo me non ci spero sei tu Andrea con le cuffie ma come Andrea mi dico mi dico allora qua non c'è la chat come è scritto pon jack pon jack non sei ma ci sei? ah? ma scusate venite tutti su discord che mi state mandando il video ah no tecnicamente è colpa mia perché io non c'ho discord per parlare con migugino ma non c'è un po' di installarlo c'è letteralmente tre secondi mail, nickname le scrivi porcocane allora scordati scordati tutto quello che lei sta dicendo volendo devi solo cliccare ci accendi da browser e poi quale sarebbe il canale? come funziona? qual è il canale che mi deve connettere? è un click è un click guarda ti dico il mio canale scusate eh se mi intrometto non voglio intrometevi solo cliccare cliccare ok dai direttamente il canale generale così entra qua ci sto si il nome è tuo caso com'è? non devi fare nessun account poi lo puoi cambiare ogni volta va bene sei stato convincente però sei fastidioso sei uno di quelli fastidiosi se non ti metti le nick perché poi ogni volta cambi nick e crei un otturamento della gente e tutti vengono tipo ogni volta hai cliccato? cioè ci sei? perché non ti vedo dentro? allora sbam 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 però io c'è l'applicazione ho scaricato se c'hai l'applicazione del programma sul computer esatto quindi Ammi si sta connettendo direttamente quindi metto un'uscita di FF15 yes si ma dov'è FF15? col b è quello col gatto ah si ok ho fatto ho fatto ho fatto è un'azzo 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 si meglio comunque si tecnicamente è semplice meno un pitch a voi provoccatelo si sente meglio e aggiustisci meglio l'audio no per me è uguale tanto non ci voleva niente a scaricarlo lo puoi usare anche da blu non c'è bisogno di allora fate quello che volete devo fare draft? devo fare flex addirittura? arrivo subito, intanto incidete io non voglio alterare nessuna vostra magari voi si abituate a giocare io faccio film dove giochi mate? i uomini fillano andrei così almeno non ho capito il primo però jungler e adicare voglio che lo faccia venire sotto con me ma uguale io vado adicare volentieri io vado adicare non ci sta nessuno jungler volentieri no di noi nessuno jungler quindi puoi andare tranquillo solo io un po' che stile buono buono no pensavo c'era qualcuno abitato a farlo non volevo frappormi non voleva fare il frappetto diciamo si è molto onorevole io ha rifiutato kick è andata male è andata male è andata male kick come kick no? si 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 ma che merda mi sto scherzando se esiste una linea di farla inizio game io lo faccio mi accrezzo octavias mi faccio le rune nueve pensa c'è te nel video di oggi vi voglio parlare quanto ti piacciono i case a te sei proprio un malato a me sì ma che cazzo ti prega del case se sotto c'è una ferrari c'è una ferrari chi è che mi vorrebbe riportare scusate no ti vorremmo onorare ottavia a me sembra ci sia scritto tutt'altro aaaaaah 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 the react is real aaaaaah aaaaaah sta reagendo la ragazza stiamo ottenendo risultati scusa what? scusa c'è stato un lieve calo di internet aaaaaah 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 scusate tra un po' vedremo avrei smesso di parlare quindi tra virgolette ovvio che avevo qualche problema no? pure tu forse è morto che cazzo ne so forse eravamo morti forse no scusate ora ci dovrei essere aaaaaah molto bene mate non so perché si è mi senti ho cambiato il report non è più il report 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 ma il gilmanji non è online che cazzo ci c'è cazzo? certo che sto online non ci sei non so perché il tre il tre il tre il tre il tre invitami mi sono uscito rinvitami come è il tuo nome scrivo quella U del cazzo come si fa quella U roba strana non ci sono ragazzi ce l'avete fra i suggeriti ce l'avrete fra gli ultimi invitami porca troia io non ce l'ho tra io io non ce l'ho tra ti puoi aggregare ti puoi aggregare dal mio nome se vuoi non posso perché il gruppo non ti vede mi dici qual è la seconda lettera che c'è nel tuo nome è una M greca M greca come cazzo si fa M greca scusa 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 ma dammi il potere un attimo regà comunque siete un branco di geni regà dove solo metto il gruppo aperto esatto dai è così semplice però dobbiamo cercare la M nella tastiera greca ma no ma gliel'ho fatto conto è diventato pure stupido dirglielo io standard sono molto bassi Ottavio ci carriamo un attimo figura di Grecia dai anche oggi ti devo carriare ma che barba imparare a giocare allora Ottavio ci carriamo che ha detto che io devo ancora imparare a giocare ahahahah aia mi ha preso in parola cazzo questa è la carriamo regà mi ha posto bene con gli anni beh forte che cosa bici ha di fendere sulle inglesate strane ma quale inglesate strane scusa ma si si vede a parlar con il computer ah ma cosa hai ricento ce la posso togliere e volete usarlo no 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 aspetta un attimo però è rimasto una cosa brutta ah no già hanno bannato questo e niente vabbè bannerò un bucce no pensavo iumi ma invece era stata bannata perfetta a me non piace molto giocarci con me non è proprio ma iumi non è proprio il champ per te iumi guarda super passiva io invece il champ ce l'ho per me sentiamo un po' ma perchè non lo sentiamo? ah ma in chat vocale lui ok questa è persa come fate a sentirlo se si è mutato? ma chi è mutato? ma c'è pure in onda ma è mutato no non è mutato l'hai mutato tu scusate l'ho mutato io me ne è proprio una polla lo sgamo brutto che brutta gente che pazienza che c'ho direi che prima di salva ma loro sembrano squishy Loro sembrano Squish a parte Maokai e Zillian e comunque gli mette quella cazzo di R Vediamo un attimo Vediamo un'addicchetta di Kia Ah tu hai preso Dave Bello va bene Eh dai Ah ma tra l'altro è anche normal lol Tra l'altro si Perché avete messo Flex? Eh Ma vogliamo dire che c'è veramente 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 C'è veramente stai trollando Oh vabbè Posso voler esecuintare volando No 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 Per calità di Dian voglio perdere altri venti minuti Allora c'è solo una cosa che mi dà Ma era una sola C'è solo una cosa che mi dà passire Che tu Una sola Madonna Ma voi Arro non l'avete ricordato E poi ho sempre lasciato C'è proprio La chatte No 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 Arro Arro era il capo del Rage E sempre si incontrava sempre con me Perché non si sa il motivo Cioè lui era top Io era Dick Curry Non si sa perché era colpa mia Il re del Rage Era space buyer No vabbè ma Marco Cioè Marco è proprio lui è così nella vita Capisci Non è così nel gioco Lui è sempre così È polemica Arro ha un Rage Molto più di Arro ha più Rage C'è gli strelletti Le cose da pazzo Capito Cioè Però Marco è un po' pure Un po' Un po' Perché per te sei una persona educata Per quelle Un po' Un po' Mi fa un po' Paura Ma chi Reb Se vuoi avere ragione Io È raro È raro Anche perché Non viene È solo un videogioco Ti dice 10% win rate Sembra intrigante Comunque Ma Federico Ci sei ancora? Lo sapevo No Lo sapevo E crashato Udile oracolo del drago Ma abbiamo fatto lo flexibus Sembra tipo il marito di Lahore Ma chi? Questo Udile Udile Ma c'è brava È vero Bene Quindi remake Comunque deve avere un lato sotto Un po' I lavori Mi cugino Ah Aveva il cazzo Sotto Ah ma è tuo cugino lui? È vero È il cugino Ma ogni tanto giocava pure al tuo account No Ho sbaglio No Era un altro Era un altro Che giocava al tuo account Che non era male per niente C'è pure giocato qualche volta Sì Che era quello che giocava al tuo account Ecco che poi sta facendo Lui sta in streaming In questa Ah 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 Credo che Sotto a me Non si Non si Non si Non si A me me ne è gran sacco Quindi ti preoccupo Ah metti un altro streaming Gamerdof Che ne so Stima Webcam Cioè twitch Cioè sta fuori Qualcos'altro Sì Io metterai Stream da qualche altra parte Pure per sicurezza Sì Così arrivi a 10 E stai in amore Con che mi conviene partire su Darius Oh ma è un amore Con Darius contro quello Potessi fare la Trinity Sì Io ho un Q o W Ah Qua di Q direi Tutta la vita Sì Che palla avere in top però Che questa cosa Che questa cosa Che questa cosa Non è a 28 No 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 Siete stupramo E stupramemuccio io sto provando una nuova build e quindi non non mi fare le immeldorfate lo puoi pure pullare però se ti capita ma troia mi sei bloccato però sembra conoscerlo dimmi ma com'è mai lei già morto spiegami che cazzo è successo non ho l'ignite mid è abbastanza free perché sono in voice perchè quel flash ma puttana la madonna di christopher robin gesù cristo io sto per loro dice robin è quello di pappani che si fa fa culo basta adesso c'è un cazzo ma quando prende caldo non tollera certi atteggiamenti no soltastrozza arrivato all'aldilà non ha capito un cazzo della vita ma ma cazzo 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 ha cazzo vuoi vaino ma venga il carretto vabbio cazzo ci C'è, siamo in una dredda C'è Cosa c'è la ragazza Questa piccola pescolina Qua Cosa c'è la ragazza Qua Imimi quanto sei matto Ma devo dire che su gira L'ha giocata bene Poi quel co***o ha usato flash Non so che prevenza andare subito a tutte radio Per poi vengo da te Sì Sì Pronto Mandalo all'aldilà Octavia Scusate Ma Mi legato quel c***o di discord No 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 Sto più a pieno di me Scusate 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 Oddio Scusate Oddio Tornare Tornare No 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 Io vado a fare il Drake Questa io mi sto distratto Vabbè Vabbè Imi basta Se giochi così va tutto bene Basta che non impazzisci perchè tu poi ad un certo punto impazzisci, zio sempre le cose con il cervello perchè c'è andrò lì nella vita no 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 no, non mi prego, zio con passione vuol dire ma vedi sgaglio come sta a fermare eh cazzo la nero guarda 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 già la vedo sta in planta tricet e sta incazzatissima quando non guarda si è crazy non ce l'ho aia oh cazzo ma come fanno che ammazzare da rius ahahah se c'è la riuscala che fa ahahah ma dimmi che fai di sposo ma come ti metti minghio? ah no, io ho il mio tap ah no, io ho il mio tap ahahah ahahah chi è il mio tap? ahah ahah torno e faccio il tiro eeeh l'ho lasciato un ottimo dovevo dare un ottimo vento è una questione tra me e negando se devo correre il più forte guarda che non si ha fatto tu hai un po' tornato a tregata e morta torca bro ho sbracata ahahah 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 ma lei, io ho con da te due ok no 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 c'è l'ultimo vedimmi quando ti dico le cose cazzo di canno ah zi ma come cazzo ci arrivo a bibietà con i ragazzi tu sei un pazzo oh sta lì oh cazzo l'ho preso io me odio questo stai peccato l'avrei preso volentieri ma pensavo pulissi l'autonomia non riesco a gankar non riesco a gankar non riesco a gankar però posso gankar il bot io ho ult in 25 fatemi arrivare però occhio a non riesco a gankar bocce fai il mio guarda 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 qua mi devi mettere guarda 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 noi in bot non abbiamo grossi bisogni, quindi puoi tranquillamente fa scuoletta mid top pronto vero? pronto? io non riesco strano un po' attraverso te io vorrei che un cadux, non immagino, sembra che è un po' devi baccarla, con lei è la doppia oh, senti, lascia stare, vai da un'altra parte, nel senso ma cavia, calma ma non è per qualcosa, nel senso perché se devo stare, eh si, arrivo, arrivo guardate, si, guardate qui, non lo faccio subito, ma un occhietto fa sempre bene mi spiace amico mio ok, questa brutta aspettiamo ok, buono vedrai allora, una civitta non vediamo un po' pan no piano, eh allora, vediamo un po' penso che guarda una botta perché non so dove sta avvenire pure il gianglo rotto attenti, eh e ci avrebbero in serio bello, pure lui senza mano, solo che sta... sta troppo sotto... provare vuole a fare? oh mio dio che fa? che fa? faccio il blue, se pusha vengo da te, però se non pusha vai, continua a fermare non c'ho bisogno per contrastarla non c'ho bisogno per contrastarla ok attenti ma... ma scusami cerno ma tu c'hai la RA, mate eh perché cazzo non me l'hai di nana stai a prendere una droppa disfatta è che... sta andando in malora tutto quanto non posso risarmi così beh, resistetemi, continuerò a fare i draghi sì apprezzando impossibile questi' quaver ordine vår 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 k2 adesso dai 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 suve le esse affancazio che cazzo dai dai nooo ma c'è... c'è eccolo non l'ho visto, vialo 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 vialo, perfetti ok, ecco il flash boom ma vaffanculo aspetta c'è roccio dai mazzaro non ci posso credere non continuare ma perchè fuori? c'era la torre, regà prima non potevamo ucciderlo, si curava mi piace, c'era la torre curato, porco voglio tornare nelle mie lane ma c'è questo, vedete? ma sta vincendo a fiora come è? come? vabbè regà ogni volta vado qua in cerca del cosino per farmi saltare ok film, queste sono le due giocate che io, porco ti vorrei ammazzare mi raccette, mamma è un bambino ma è un bambino regà vado al drago, gettate non più qua come le cose che possiamo fare non so no, non ho ultimi io ce l'ho ecco, sarò già io da qua adesso andiamo andiamo, Galio, Galio non male, regà sono morto vaffanculo neassa vince questa qui che falla, mamma mia che falla, mamma mia eccesso, credo guarda guarda, ma queste giocate si perde non c'erano, non c'erano, non c'erano, non c'erano non c'erano, non c'erano, non c'erano, non c'erano guarda bene, sta killando e sto pazzendo ma sei passione che sull'endere oh no ci ha detto che non è lì no mamma mia e basta ma lei era in survival ma lei era solo contro quel monotel tanto non c'erano partita non c'erano partita non andate contro monotel aspettatemi andiamo andiamo, andiamo ragazzi ho 5 secondi ragà, ma stanno un 4, ma da andando eh guarda voglio non possiamo farcela abbiamo fatto prendere troppo troppo largo eh per me è alto eh non sta vincendo nessuno lento dove vai? la incontro ha un solo duppone sciccola ma è solo un bello non c'erano il gutavo ma è anche un buon non c'erano il controllo non lo Certo, non le palla Ah, non so se è addirittura E' partito E' che tanto mi serveva anche del canuro al flash E' già morto Non posso anche evitarlo, tanto se è invece vicino Piuttosto dagli altri figli li cambiamo Eh, eh, tenta dire buono Eh, 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 eh Beh, eh, 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 eh Grazie a tutti soprattutto grazie per me beccarli isolati qualcuno isolato che ne so che è un botte isolato ma c'è pure noi guarda regare che dai non è molto un cazzo che è assurdo ma diamo lei dai ma c'è troppo capo mi spiace ragazzi non vorrei prendermi una volta per quest'era te dai io ho fatto uno colore non c'è raggiunto bene non c'è raggiunto bene ehi vabbè se ho più giocato quello prega due ore da vostra capardità ma volete comunque giocare ah stanno sempre in team questi qua al suo più giovelo basta non c'è raggiunto bene non c'è raggiunto non è sempre ultimo possibile Adesso Allieee La rete non pare una minchia Che schilla Basta Un buon portoccazio Beh ragazzi buona partita Basta un piacitere Adesso becchiamo la prossima Bella Bellissima Bella 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 splinfy Detto anche lo spinto erogeno L'ultimissima prima C'è E quindi si chiude lo stream Per oggi Bella ragazzi Alla prossima Mi raccomando